le porte del paradiso di Lempugliani gli ultimi anni tutti ci vogliono venire farsi la foto instagram con le due porte con il laghetto sotto ma il laghetto sotto non esiste guardate lì oggi vi faccio vedere come funziona quando arrivate dovete venire qua a questo piccolo ufficio e lasciare una donazione di quanto volete voi vorrete avere un sarong con voi sarong è tipo il pareo sto qua il gonnellone se non avete il sarong ve lo danno e bisogna pagare circa 10.000 rupie poi il sarong lo dovete ridare indietro naturalmente dopo aver pagato il biglietto dovrete fare questa salita per circa cinque minuti fino ad arrivare al tempio questa è la fila che bisogna fare per farsi la foto alle porte del paradiso di Lempugliani dove c'è un fotografo che vi fa mettere lì in fila e voi dovete saltare comunque c'è questa parte del tempio che è bellissima